Sono stati processati, due sono tuttora latitanti, appunto vedete le condanne, 43 colpevoli con un ergastolo, 18 anni di reclusione, qualcuno è stato assolto, qualcuno è stato scagionato in parte dalle accuse, altri trasferiti alle tribunali statali, sei nel frattempo deceduti, il più noto di questi ovviamente sapete Milosevic. Le Nazioni Unite hanno deciso di chiudere con il 2010 l'attività del Tribunale dell'AIA per l'ex Jugoslavia con tre eccezioni, il processo per Ante Gotovina, il cosiddetto boia della Krasina, che si sta concludendo fra l'altro in questi mesi, insomma la sentenza è attesa probabilmente entro la prima metà del 2011, Radovan Karadzic, vi ricorderete che si era fatto poi finalmente dopo anni di latitanza pizzicare con un'identità falsa, e Ratko Mladic che invece è ancora l'attitante, il comandante in capo dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia, e l'attitante, poi adesso vediamo poi quando parleremo dei singoli casi. Poi un secondo tribunale, è il Tribunale di Arusha per la guerra in Rwanda, vi ricorderete i cento giorni, altro buco nero dell'umanità, i cento giorni della guerra in Rwanda, con questo doppio genocidio Utu e Tuzzi, prima gli Utu che scatenano, alcuni leader Utu che scatenano un vero e proprio genocidio nei confronti dei Tuzzi, e poi il genocidio di ritorno nel momento in cui i Tuzzi sono riusciti a riorganizzarsi, poi insieme alle forze congolesi, e quindi cento giorni terribili, si parla di un milione di morti. I imputati principali sono per genocidio, incitamento all'odio razziale, assassino, stupro, sterminio, una trentina di imputati, nove ergastoli e processi che tuttora continuano. Tribunale speciale per la guerra civile in Sierra Leone, anche qua 11 persone che sono una minima parte rispetto ai tanti criminali di guerra che a vari livelli hanno partecipato, esattamente come negli altri due casi che abbiamo illustrato prima, appunto accusati di crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Allora, ecco, una cosa importante qui è questa imputazione, l'arruolamento di bambini, perché per la prima volta un tribunale internazionale ha condannato alcuni di questi imputati per aver arruolato dei bambini soldato, e questa è una sentenza che nella giurisprudenza mondiale probabilmente farà storia, e c'è la speranza che tanti altri che hanno fatto questa cosa terribile di mettere in mano delle armi dei bambini, perché ovviamente sono molto più gestibili degli adulti e sono capaci purtroppo di fare delle cose terribili, molto più di un adulto che magari qualche scrupolo morale a un certo punto riesce ad averlo, che queste persone possano un giorno rispondere dei crimini che hanno fatto. Accanto a questi tre tribunali, che come avete visto sono molto circoscritti nello spazio e nel tempo, questi si occupano di una situazione che è avvenuta in una frazione temporale molto precisa, in un luogo molto preciso, accanto a questi c'è la Corte Penale Internazionale, che invece non ha questi vincoli, questa la vediamo un pochino più avanti, però volevo prima fare un minimo di casistica su alcuni imputati eccellenti, e così magari anche commentare qualche cosa sulla loro storia. Il primo è l'ex presidente della Liberia, Charles Taylor, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle violazioni dei diritti umani e nel perpetrare i crimini di guerra durante la guerra civile in Sierra Leone, la guerra rimasta famosa quella dei diamanti insanguinati, tanto per intenderci. Oggi è sotto processo al tribunale appunto di Frittown, quello sulla Sierra Leone, con una richiesta di condanna all'ergastolo. Ecco, questo altro signore si chiama Desire Munianesa e il suo caso è molto particolare, perché è uno degli artefici, lui era un uomo d'affari ruandese di etnia Utu, ed è stato uno di quelli che è stato gli ispiratori del genocidio nei confronti dei Tuzzi. Finita la guerra, è riuscito a scappare, è scappato in Canada, dove sotto false identità è riuscito a ricostruirsi una vita, era un uomo d'affari, è continuato a fare lo stesso anche lì, finché un giorno non è stato riconosciuto da una delle sue vittime, da una donna che lui aveva violentato, che lo aveva visto violentare e uccidere altre persone. È stato arrestato, è stato processato e condannato da un tribunale canadese, perché si trovava in Canada al momento appunto dell'inizio dell'indagine, vi ricordate prima quando parlavo della casistica dei tribunali nazionali, e oggi sta scontando in Quebec la condanna all'ergastolo. In attesa di un processo di appello, comunque in primo grado è stato condannato all'ergastolo. Questo ovviamente lo conoscete tutti, conoscete tutti la sua storia, conclusasi in maniera francamente iniqua, perché un personaggio come questo avrebbe dovuto essere un'occasione, non soltanto per l'Iraq, ma per tutta la comunità internazionale, per far vedere che la giustizia è un qualche cosa diverso da quello che rappresentano questi dittatori. Purtroppo così non è stato, non soltanto è stato condannato a morte, cosa che ovviamente ha avuto l'avversione di buona parte dell'opinione pubblica internazionale, e naturalmente fra i tanti altri, anche Amnesty International, in prima linea per dire no alla condanna a morte di Saddam Hussein, ma anche perché poi il suo processo è stato fortemente viziato dalle limitazioni nei confronti dei diritti della difesa, perché alla fine è stato abbastanza chiaro che la sua eliminazione corrispondeva più a criteri di tipo politico che non di rendere effettivamente giustizia alle sue tante vittime, tant'è che appunto è stato condannato a morte anche in maniera un po' frettolosa, in maniera da toglierselo dalle scatole, magari non fare in modo che anche lui cominciasse magari a parlare, a raccontare delle cosine che potevano essere interessanti. Lui è stato condannato per il massacro di Dujail, se lo sto pronunciando bene, compiuto nell'82, in quel caso a un fallito attentato nei suoi confronti, lui ordinò una rappresaglia che fece sterminare circa 150 persone di questo villaggio nella zona scita dell'Iraq, e per questo suo crimine è stato appunto condannato l'impiccagione insieme a quello che era allora il Presidente del Tribunale che controfirmò poi queste condanne, sottraendolo così a una serie di altri procedimenti in cui non soltanto avrebbe dovuto essere condannato, possibilmente non alla pena di morte, ma in cui avrebbe potuto chiarire tante altre responsabilità. E tante persone che sono state le vittime di Saddam Hussein in Iraq avrebbero potuto finalmente avere giustizia. Radovan Karadzic lo vedete nelle sue due versioni di quando era Presidente della Repubblica Serba di Croazia e di quando invece si faceva chiamare Dragon Davic, aveva assunto l'identità di un militare morto durante la guerra. Oggi si trova appunto all'Aia, in prigione, in attesa di venire processato. Ci sono state già alcune evidenze preliminari, adesso il processo dovrebbe riaprire a febbraio. Iorg e Raffael Videla, chi come me qualche capello bianco sulla testa ce l'ha, se lo ricorda bene questo signore, che negli anni 70 scatenò una delle ondate repressive più terribili della storia recente in Argentina, 20 mila morti, desaparecidos, persone che sono state torturate, caricate su un aereo, buttate giù in mare, eccetera. Dopo un palleggiamento incredibile tra amnistie, condoni, indulti, revoche di questi, alla fine è stato condannato nel 1985 prima un ergastolo e anche recentemente nel 2010 a un secondo ergastolo proprio per le violazioni dei diritti umani commesse quando era Presidente della Giunta Militare che governava l'Argentina. Ecco, altri però, questi signori comunque in qualche maniera hanno pagato, altri non pagheranno, Milosevic per esempio, la giustizia internazionale è stata più lenta della natura, al di là di tutte le dietrologie sul fatto che sia morto, sia suicidato, sia stato assassinato, però di fatto non è mai arrivato a rispondere dei suoi crimini davanti a un tribunale, così come Pol Pot, anche lui con una serie di amnistie, di leggi che cancellavano, le responsabilità del periodo, anche qua bisogna avere i capelli grigi almeno per ricordarsi di quello che è successo in Cambogia intorno alla seconda metà degli anni 70 quando appunto i Khmer Rossi la governavano, anche lui poi morto probabilmente di morte naturale prima di poter rispondere davanti a un tribunale. Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, vi ricorderete nel prima metà degli anni 90 al giudice Garçon che chiese l'estradizione di Pinochet che si trovava in Gran Bretagna e gli inglesi furono costretti ad arrestarlo, naturalmente lì ci fu la corsa a cercare di salvare quello che era stato anche un alleato prezioso per la Gran Bretagna durante la guerra delle Falkland contro l'Argentina, sta di fatto che l'azione dei giudici spagnoli non è riuscita a portarlo in Spagna, a farlo processare in virtù del fatto che alcune vittime della dittatura cilena erano di nazionalità spagnola.